Martedì della sedicesima settimana del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse, ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Commento al Vangelo del giorno di Papa Francesco. Perché chiunque fa la volontà del padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Con queste parole, Gesù lascia un messaggio importante. La volontà di Dio è la legge suprema che stabilisce la vera appartenenza a Lui. Perciò Maria instaura un legame di parentela con Gesù, prima ancora di darlo alla luce. Diventa discepola e madre del suo figlio, nel momento in cui accoglie le parole dell'angelo e dice, Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la Tua parola. Questo avvenga non è solo accettazione, ma anche apertura fiduciosa al futuro. Questo avvenga è speranza.